GF VIP, scherzo di signorini per i 50 di Sonia Bruganelli, ma sei uno strzzo. Dopo i festeggiamenti sui social Sonia Bruganelli viene festeggiata anche nello studio del grande fratello VIP in un modo molto speciale. Alfonso Signorini ha voluto però farle uno scherzo puntando sulla vanità e regalandole una misera crostatina con la candelina a forma di numero, 50. Uno scherzo perfido da parte di Alfonso Signorini che però ha fatto sorridere tutti. Infatti Sonia Bruganelli non compie 50 anni come ha voluto far credere il conduttore. Ne ho molti meno replica fintamente arrabbiata la Bruganelli, che sta allo scherzo e poi una crostatina così piccola ma è una tristezza. Sonia Bruganelli, che è nata il 20 febbraio del 1974, di anni ne compie 49 rivolgendosi al conduttore e ha replicato ma sei uno strzzo. Stenderei un velo pietoso sulla modalità dei festeggiamenti. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fierb, că baie ploaie vând, nici un curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja, arunca-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar, acum că nu.